Ciao ragazzi, se cercate un hosting di Minecraft affidabile passate dal link in descrizione Noterete comunque sia dal video e dalla serie che non laga Quindi bene, vi lascio al video o alla serie Visto che questo video sarà in ogni episodio di questa serie Bene ragazzi, cote cote oggi, siamo qua con un nuovo episodio di It's Better Together Oggi purtroppo non c'è Kamikaze perché è in ferie, quindi siamo in compagnia di Vertigo Io non so fare le cose Bene, quindi possiamo iniziare a fare questo nuovo stage Spider-Man, Spider-Man, I'm a Kamikaze Spider-Man Mi sa che non doveva proprio andare così Jack ti prendo io, non devo dire Allora, adesso gli iscritti più staranno per dire Oh mio Dio ma siete tre? Bene, allora oggi Vertigo è il nostro ospite speciale E quindi farà questo stage assieme a noi O comunque tutto quanto questo episodio assieme a noi Allora Vertigo Io sono inutile Guarda un poco la situation e cerca di capire cosa che dobbiamo fare Vediamo la tua intelligenza Ci sono le ferrovie Ma che cazzo Comunque se premi qua dovrebbe cambiare traiettoria infatti Guarda, cambia traiettoria lì No aspetta aspetta Ma come cazzo si fa a far partire il Minecraft scusa? Aspetta forse questi qua, ditemi voi se parte Ah ma c'è un Minecraft Aspetta, ditemi se parte Pensavo ci andassero le barche No, non parte Allora, questo cosa fa? Quello, ecco là c'è il Minecraft, eccolo Eh Eh, se... Faffanculo Oh, se vedi che sto scendo Beh, cami, mettiti qua Tu qua e io dall'altra parte allo stesso posto Proviamo Parte No Metti dall'altro 3, 2, 1, vai Niente No Cambi mai quel pulsante Vado a questo 3, 2, 1 No, quelli cambiano le traiettorie Vedi, vedi Prova a premerlo questo però Aspetta Questo No, no, questi cambiano solo le traiettorie Dregò, mettiti qua Mi sono già messo prima No, qua, Dregò, qua Da me Ah, ok, ok Eh, lì Aspetta, forse Parte Eccolo Eh, però devi cambiare le traiettorie Qua, 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 questo Attenzione Oddio, sto tornando indietro Aspetta, aspettate Così e dopo così Ok, vedi No, 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 va Ah Dregò Ok, cami, cazzo Tu metti la curva e io accoso il pistone 3, 2, 1 Oh, aspetta, aspetta, ho capito una cosa Questo, va questo Ok Ora non Oggi ce lo fa Aspetta, aspetta No, 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 non è quello Questo Ops Cosa è successo Cosa è successo Non lo so Oddio Va a spostarlo Spostalo Devi attivare quella red Cazzo 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 Ah, ok, ok Così che dovrebbe fare Aspetta, aspetta Adesso state fermi Adesso dobbiamo utilizzare questi 3 Questo qua cosa fa? Sì Uh, ce l'ho fatta No, 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 no Aspetta, questo qua Ok, questo per questo qua subito No Questo Eh, aspetta Aspetta, vi dico io quando mettere il primo Ok, 3 Cioè, 3 Tu lo devi dire 3 Aspetta Primo Eh, che cazzo è troppo tardi Ok Ah Dei fare primo E dopo con calma E il secondo Ok, quindi Fai, fai vedere così Primo Secondo E terzo Cioè, perché poi torna indietro? Aspetta, ho capito Uno Due Tre Fatto? Eh, più me Bene Vai, Draco, devi fare uno, due Ah, no, mi sa che dovete stare anche qua però Perché qui No, no, no Non c'è da me niente Non fa un po' Verti, Draco, tu devi fare uno e due E io poi che col terzo Ok Allora Verti, tu guarda lei Visami quando è che devo attivare l'uno Vai, vai Tre Attivalo Troppo tardi Ok, ok Uuuu Amazing Ok, ora dovete andare sulle pedane Ok, vai qua Ci dovrebbe attivare un qualcosa? Sì, il giratore di attore è un po' lì Fatto Averto Modonna OP ragazzi OP Voglio, voglio un premio Verti Oddio Vieni qua con me No Aspetta No Verti, muoviti Fermo, non riesco a premere il pulsante Ok Ok, adesso qua ci vogliono tre lettere Perché, ma tre No Voglio staccare Ah Non voglio Mi ragazzo Dovrei Dovrei farlo Ok Nuovo giorno, nuova vita, nuovo cazzo Ok, andiamo Ok, ho un'antimazione Se mi metto qui Faccio le cose Mettiti Sì What? No, no, aspetta, voglio andare io Voglio fare io Vai, vai, tu No, aspetta, no In teoria Qua bisognebbe farlo in massimo in due Giusto? Eh, sì Quindi fate in due Ok, quindi così Camì, ti stai fermo, porca puttana Ma sì Ma sei ritardato Io nuoto Scusa Lo puoi fare, vai Aiuto Cioè Aiuto No, cazzo Il pro Il pro Non è vero Tutte e due sulla stessa fila Ma si è handicappato nel cervello di Non dovete neanche farlo questo livello Perché qui la porta è già aperta Guardate No, 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 è baggata Mettiti in creative e mettila come stava prima Così funziona Sono baggate le porte di questa mano No, 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 lasciala così Noi sappiamo che baggate Quindi non dobbiamo andare avanti Vai, drogo So cosa fare, so cosa fare So cosa fare Guarda che probabilmente dopo aver fatto questa cosa Non si riapriamo più No, 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 tranquillo Un attimo solo raga Perché io sto abbassando l'audio Perché questi pistone mi stanno rompendo le palle In una maniera impressionante Guarda come sono bravo Anzi, abbasso ancora di più Ecco Fatto Ma non è molto difficile Il problema è che siamo a handicap Ecco Voglio provare a fare Ma semmai tu sei a handicap Ma io Ma no Ma no Ma no Ma no Ok, devo capire com'è che funziona Allora Allora, questo qua un punto dove mi salvo Cioè che se sto No, perché qua non è mezzo da Eh, ho capito, ho capito come funziona Raga, ce la faccio, ce la farò Ce la farò Quindi salvi pure No, no, tranquillo So cosa fare Berti, non, tranquillo Ok Eh Ok No, io mi sa che ho capito Dai, davvero Perché mi hai tippato alla fine? Aiuto 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 No, no, no Sì, io sono coglione però Oddio, ma perché siamo tipo in discoteca Che c'è una luce pazzesca Ludo Sì, perché I wanna dance in the Sky Esatto I wanna play Sì, ma è impossibile sta parte No, non è che è impossibile, è difficile Quale il problema No, no, trego, sta parte qua è impossibile Perché vedi come fa Io ho capito Però non ci riesco Ugualmente Uh Ok, qua Qua sono salvo Quello lì si chiude Quindi appena si chiude Io devo essere pro No, ho da fare questa È proprio Tu devi essere bravo Scusa, ma le pedane a cosa servivano? Apollo Bros Ah, non a Magalli Io mi metto in game mode perché così Se no qua Per tornare ci metto 40 anni Basta Con tonno Con tonno Oh, Kamikaze ce la fa Kamikaze ce la fa Vedi che Kamikaze stai in creative Ah Stai in creative ma per tornare Andicappato Se no con l'acqua ci metti 40 anni Anche io Oddio Aiuto Ce la sto per fare Non è vero, non ce la farò mai Il database dei virus di Avast È stato aggiornato Anche il mio Database dei virus di Avast Dregolo ti consiglio di metterti in game mode pure tu Così quando vai in acqua ci metti Oh Consiglio di mettervi una zucca in testa Ok Zucca No, ma non credo che funzioni Cioè sì, dovrebbe funzionare Si funziona Perfetto Ora io c'ho Io vedere che ce la faccio Basta con tonno Ce la dovrei No A parte non ci vedo un cazzo Con la zucca in testa Basta delle zucche Ok Ti vai cagare tu alle zucche di merda Basta con tonno Eh sì, va bene Ma tua madre Eh Non lo so Ci ho fatto Eh sì, lo sai Lo sai che è vero Che adesso ce la devo fare Anch'io perché altrimenti Non possiamo premere entrambi Entrambi due la leva Ah sta con tonno Aspetta ma lo voglio provare a favorire Perché mi sta a fare ne voglia Quindi adesso io Mi metto qui Dalla mia parte no? Ah Madonna la cipolla Madonna l'aglio Ok qui Bene a questo punto mi si apre qui No No Oh mio dio Aiuto Vai 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 No ti prego Sono No No Zinganzen Ma sta con tonno No 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 I can do this I can do this No It's the time of No 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 Ma sta con tonno Per favore cami stai zitto che mi devo concentrare Dai su che all'arrivo c'è un Vertigo salvato Eh si vabbè ho capito ma se qua mi cacca il cazzo Guarda che bagato Fiori per dregote Fiori per dregò Che basta Ma è lì devi correre come un matto Appena si leva fai Ma sei stupido Basta con cionno Sarà per la prossima volta Ritenta Sarei più il fortu cazzo No grazie No mi dispiace Ma io lo devo fare Sennò no 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 Basta con cionno Voglio l'omogenizzato al tonno Ah Ce l'ho fatta Porco cazzo Bravo Ce l'ho fatta Scusate Alla fine si avevo messo la fly Ma avevo saltato giusto E no sono serie Sono serio Aspettami ci dobbiamo mettere in game mode 0 Anzi no in game mode 3 Adventure Si Ecco veri che dopo che rimetteva le porte in quel modo No aspetta Ma aspetta qual era game mode 2 Si advent Ok 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 Sarà così le porte Questi cazzi mi aspetta io come cazzo salgo Faccio così Ok ma le porte perché non si so aperte Perché è Func Vabbè rimetto giusta così Vabbè vaffanculo Te costi cazzi vieni Aspetta c'ho una zucca in mano Vabbè vaffanculo Ok andiamo Donna mia che si è handicappato Ecco ora è più bello Tieni Così è più bello Ok Vai parti questa qua mi regalo per te Ok 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 Ci ho fatto un regalo di tre gote Parti qua Hd Tre gote Ora nel letto me lo metto Che cazzo Tieni parti No 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 Non è notte Non è notte Stai fermo Non c'è bisogno Ah no bugia Bisogna metterlo noi notte Time Time set 8 Set 10 No bugia non è vero Andiamo Ma sta con tonno Guarda il divertico che dorme Con un letto in mano Ok Ecco andiamo Siamo arrivati al numero 9 Grazie a tutti Guarda le porte Zitti zitti ragazzi Perché bisogna avere suspense La suspense è qualcosa di importante Quindi Io direi Io sono qua sopra Che cazzo fanno queste pedane Lasciale così Lasciale così No Io direi Che per questo video È tutto Questo qua Ma io già sto cliccando le pedane Questo qua Scrivete voi in descrizione In descrizione Scrivete voi nei commenti Secondo voi Che cos'è questa roba qui Che faremo nel prossimo episodio Quindi Da Dregote Kamigaz E Vertigo È tutto Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Dregote e Nambo Ah